Dopo tanto rincorrere abbiamo trovato Diego Tassi, esordio del club atletico River Chienti, pareggio contro Allianz, campione in carica, un buon punto. Sì, sì, potevamo vincere però potevamo anche perdere, è stata una partita equilibrata e secondo tempo le squadre sono un po' allungate, il campo è grande, è normale, però ci riteniamo soddisfatti. Senti, siete una squadra che in passato ha vinto tanto, adesso provate anche nei campionati Tecca, a dire la vostra. Eh, ci proviamo, certo, si fa un po' fatica, gli anni passano, la forma diminuisce, si fa un po' fatica, però ci proviamo. Senti, il manico è sempre quello di mister Arnoldo che ormai è storico. Sì, Arnoldo quest'anno vorrebbe anche giocare un po' di più e stasera non era il meglio, era infortunato e non se l'è sentita. Magari alla prossima ci darà una mano anche in campo. Senti, Diego Tassi invece non smette mai, la sua grande passione è sempre in campo. Eh, sì, la passione c'è e ci si prova, perché, ripeto, si fa un po' fatica, però l'importante è divertirsi. Grazie a Diego Tassi per il campionato Tec e uno dei Treventozzi. Grazie a te, alla prossima.